Questa mattina, sullo scalone di Palazzo Merlato, le associazioni ravennati legate ai valori risorgimentali hanno deposto alcune coroni di fiori ai piedi della targa di bronzo dedicata a Giuseppe Mazzini per ricordare, come ogni anno, l'anniversario dell'Assemblea Costituente che nel 1849 dichiarò decaduto il potere temporale dello Stato Pontificio e proclamò la Repubblica Romana nei territori del Lazio, dell'Ombria e delle Marche. Anche l'Istituto del Mosaico Severini ha voluto celebrare la Repubblica Romana del 9 febbraio 1849 con la realizzazione di un'opera artistica in mosaico che ricorda la prima Costituzione Repubblicana ai protagonisti Mazzini, Arbellini e Saffi, donata al Vice Sindaco Mingozzi e al Presidente del gruppo Cassa di Risparmio Antonio Patuelli nella veste di storico e Presidente di Libro Aperto.